Il servizio è stato messo sotto controllo il mio telefono e non è stato messo sotto controllo, non so, quello del direttore del TG2 o quello del direttore del TG3. Questa è un'anomalia, perché prima di aprire un'inchiesta uno va a vedere se io per caso questo ipotetico reato l'ho commesso o meno, altrimenti perché me lo metti? Sbaglio? Questa è una constatazione talmente chiara, evidente. Non hai avuto modo di chiederne ragione? No, ma io poi oltretutto tieni conto che, poi io ce l'ho anche con l'America Express per alcuni versi, io l'ho anche detto, se io gli ho chiesto se voglio un testimone a carico, perché io ho una carta di credito, io rispetto alle cariche, sono fatto così, sono un po' all'antica, voglio vedere prima quello che spendo e poi pago. Allora, quindi mi mandano l'estratto conto e poi vado a pagare, normalmente facendo il direttore arrivo sempre tardi e quindi pago anch'io degli interessi rilevanti, per cui ho detto all'ufficiale giudiziario. Se avete bisogno di un testimone a carico, bene, chiamatemi che io vengo tranquillamente. Era la cosa più lontana da me, per dirti, cioè era una cosa che proprio non aveva nessun tipo di... Oh, Augusto, non vorrei che adesso di questo passo si pensasse che l'America Express... No, ma infatti no, ma io infatti la utilizzo ancora e quindi va benissimo. Allora, però, detto questo, vengono fuori estratti di intercettazioni che ti riguardano, che fanno capire, visto che c'è un colloquio tra te e il Presidente del Consiglio, che sei tu evidentemente la persona intercettata, perché il Presidente del Consiglio non può essere intercettato con le chiamate in partenza. Sì, sì, io poi non so, mi dicono che anche se tu non sei indagato ti possono mettere sotto controllo il telefono, così mi dicono. Io però non sono un esperto, perché vedi, non so, non so assolutamente niente. Io ancora adesso non ho nessun tipo di segnale. Cioè tu non sai niente? Io non so niente. E hai saputo, però a tua richiesta si sa che non sei indagato o non si sa ancora neanche... No, non è anche richiesto questo, perché poi non so se devo mettermi un avvocato o meno. Da questo punto di vista io capisco che è una situazione spagnante, paradossale, eccetera. Però poi tocca parlare della sostanza, perché uno, effettivamente, non è questo il caso, ma uno magari appunto viene messo sotto controllo dal punto di vista delle conversazioni telefoniche per un divieto di sosta e si scopre che ha tentato di colpire il Papa, no? Quindi è ovvio. La sostanza, tu come la vedi? Come giudichi? Qualcuno dice, guardate, se si intercettassero i telefoni di tutti i direttori si scoprirebbe che tutti parlano con i politici. Nel tuo caso però qualcuno dice, molto. Il rapporto che si configura tra il Presidente del Consiglio e il Direttore del Tg1 sembra addirittura di sudditanza. Tu a questo cosa rispondi? È una pura idiozia. Io parlo con tutti, con tutti i possibili interluttori, quelli che mi chiamano, qualcuno chiamo io facendo il giornalista e non c'è assolutamente questo tipo di rapporto. Ho letto oggi sui giornali 5-6, io non penso di aver avuto, diciamo, tutte queste telefonate con il Presidente del Consiglio. Cioè tu parlandone da uomo libero, ogni quanto ti sei sentito da quando sei direttore del Tg1? Ma io tutto, guarda, saranno 5 volte, ma partendo, cioè adesso non so se per caso mi hanno messo sotto controllo il telefono dall'8 giugno quando ho cominciato questo lavoro, ma tutto saranno 5-6, buh, una cosa di questo tipo. Ma ho parlato con tanta gente. Diciamo in 9 mesi hai parlato... No, scusa, no, ma è solo aneddotica, perché però per dire non si può configurare dal tuo punto di vista, parola di Augusto Minzolini, che ci sia un filo diretto continuativo. Ma non c'è assolutamente. Probabilmente ci sono politici con cui ho parlato anche di più. Poi tieni conto, poi c'è questa ipocrisia, perché poi la vicenda è sempre la stessa. Mi raccomando, mi metti quello, quell'altro in posta. Ho visto che qualcuno usa l'espressione tutto tondo. Se io devo dire a tutti quelli che mi dicono... L'altro giorno Versani, dal palco di un comizio, ha spiegato, anzi parlando e chiamandomi per nome, speriamo che il TG1 di Minzolini non mette in evidenza i manifesti di Napolitano nella manifestazione, perché non è quello il punto centrale della manifestazione, è quella soltanto, diciamo, una parte più esigua. Allora quello cos'è? Me l'ha fatto dal palco, ma è esattamente quello che fanno gli altri. Cioè è assolutamente paradossale tutto questo. C'è chi vuole il sonoro, c'è chi mi telefona direttamente, e chi mi fa telefonare da qualcun altro. Ma sono le cose più ovvie. C'è chi mi dice, mi fai intervistare da questo per un libro, perché preferisco essere intervistato da questa persona perché mi sembra più capace, o comunque sicuramente con cui ho un buon rapporto. Sono tutte cose assolutamente banali che avvengono ai direttori della RAI, avvengono nel senso che uno sperimenta così, ma penso che sperimenteranno tutti i direttori, anche quello del Corri della Sera. Io lo chiederemo. Fai la prossima intervista. Venerdì mattina il Fatto Quotidiano spara questa notizia, uno scoop, giù il cappello dal punto di vista. Sì, ancora non ho capito se sono indagato. No, no, è molto chiaro. Tu l'hai appreso leggendo quella mattina il Fatto Quotidiano? Sì. Io veramente parlo tutto e non leggo il Fatto. E non leggi il Fatto? No, non leggo il Fatto. Francamente non lo leggo, non l'ho mai letto. È del tutto legittimo. Ognuno se li legge. Però il direttore del TG1 pensavo che leggesse tutti i giornali, anche quelli meno amiche. Ah, francamente, ognuno, sai, se devo leggerli tutti, sono anche quelli internazionali. Via dicendo, il Fatto non lo leggo. E da allora, parola di Augusto Menzolini, vi siete sentiti con il Presidente del Consiglio, visto che siete nello stesso calderone. No, francamente no. Non vi siete sentiti? No, non ci siamo sentiti anche perché poi non c'è motivo. Poi oltretutto, adesso io voglio poi verificare se per caso una telefonata con il Presidente del Consiglio è reato, perché questo non lo sapevo. Probabilmente andrò a leggere qualcosa, diciamo, sul codice. Scusami. Più in generale, tutto questo ovviamente è benzina sul fuoco di una polemica sul tuo ruolo interventista, tra virgolette, come direttore del Tg1. Perché tutto questo probabilmente non succederebbe in questi termini se tu non fossi già identificato, a torto o a ragione, e così mi tocca dire ovviamente, come, come dire, l'asso di briscola del berlusconismo televisivo. Ma questa c'è, oltretutto, secondo me, anche questa è una stupidaggine. Faccio un discorso. Parliamo, diciamo, di questo, quello che io ho capito di tutta questa vicenda. Anche perché non si capisce poi il reato, io qui l'unica cosa che ho è che l'ha telefonato con Berlusconi. Però, leggendo, c'è questo tentativo di Berlusconi di intervenire sulle trasmissioni di Santoro e via dicendo. Allora, prendiamo come metodo di giudizio questo meccanismo qua. Lui che cosa può avermi chiesto rispetto a Santoro? Di fare qualche servizio su Santoro? Io non ho mai parlato di Santoro. Di fare qualche servizio sulla Dandini? Io non ho mai parlato della Dandini. Basta che vai a vedere. Se, diciamo, questa volta vanno a vedere i primi servizi e poi fanno, sarebbe meglio rispetto alla vicenda delle carte di credio. Quindi, io non capisco come posso essere tirato in ballo in quella vicenda là. Se però prendo lo stesso metodo di giudizio, e io mi vado a vedere, non so, non l'ho mai visto neanche Santoro, però me l'hanno detto, non so quante volte Travaglio mi ha attaccato. Non l'hai mai visto Santoro? No, pochissime volte dove, francamente, poi la sera quando finisco a lavorare faccio altre cose, non sono preso, diciamo, da questo meccanismo perverso. E per ora queste non sono penalizzate. Meno male. Comunque, se io vado a vedere le volte che Travaglio mi ha attaccato o qualcun altro dalla trasmissione di Santoro, cioè, sono innumerevoli da quando è cominciata la trasmissione, addirittura la Dandini ha tirato fuori pure il personaggio ironico sugli editoriali. Allora, se io dovessi... Quello l'hai visto? Quello l'ho visto, perché volevo vedere se venivo bene o meno. Ti è piaciuto? Sì, era pure divertente. Non è che mi riconosco tanto. Ma a parte questo, allora devo immaginare che qualcuno deve aver detto a Santoro o alla Dandini di fare dei servizi contro di me. Posso immaginare questo se questo è il metro. Cioè, tu dici, usando la stessa dietrologia... Cioè, per quale motivo improvvisamente è cominciata una campagna? Una campagna che va avanti da tre mesi contro il sottoscritto. E su questo sono d'accordo, riguarda la vicenda degli editoriali. Però se noi andiamo a vedere gli editoriali, adesso quelli che mi vengono in mente, quello famoso sul gossip, di quell'inchiesta che cosa è rimasta? Io, la vicenda degli editoriali, non so neanche più dove è finita, se se ne parla ancora. Qualche settimanale di grido dice che addirittura c'è un'indagine sulla Dardario. Panorama. Panorama. E in più, quando io sono intervenuto, tolto che credo come servizio pubblico uno deve avere una posizione di un certo tipo, perché se ti allargavi finimi con me sulla vicenda Marazzo, che noi abbiamo trattato alla stessa maniera e non siamo finiti, diciamo, a fare i rotocalchi sui trans e via dicendo. Ma, a parte questo, lì c'era una cosa che mi aveva un po' bloccato, nelle tante intercettazioni, e su cui tutti dovevano un po' riflettere. Quando Tarantini dice alla Dardario, guarda, lui non pensa che... La Dardario si lamenta con Tarantini perché non gli era stata lasciata la famosa busta. E Tarantini gli dice, quando nessuno dei due sospetta di essere intercettato, guarda, lui non sa che tu sei un escort, ma pensa che tu sei una mia amica. Quella cosa lì, cioè, se uno fa un'analisi di queste vicende qua, dovrebbe portare pure un giornalista ad immaginare quale potrebbe essere l'epilogo. L'epilogo è stato che non è successo nulla. Parliamo di un'altra cosa. Dal punto di vista penale. Dal punto di vista penale. Parliamo di un'altra cosa. Adesso parliamo invece dei contenuti. Mi hanno crocifisso quando ho tirato fuori la vicenda dell'immunità parlamentare, ricordando che la Costituzione tutta insieme prevedeva anche l'immunità parlamentare. Per cui il rapporto, il CSM e l'autonomia della magistratura aveva questa camera di compensazione. Cioè il fatto che i politici, per essere indagati, comunque in ogni caso il magistrato doveva chiedere l'autorizzazione al Parlamento. Questo perché non ho scritto io.